Sai cos'è la longevità? E' quella scienza che studia l'anti-aging. Sai perché la gente non ha mai creduto in questa scienza? Perché tutti coloro che la professavano sono morti. Ebbene sì, il passato è il passato, ma adesso lo scenario è molto differente perché i nuovi guru della longevità, tra cui l'italianissimo Longo, che seguo, è un grande professionista, hanno costruito dei nuovi pilastri su questa scienza, probabilmente nel futuro si svilupperà incredibilmente. Detto ciò, un ottimo consiglio per te potrebbe essere quello di iniziare il mio corso di bio-eaking, completamente gratuito. Bio-eaking che cos'è? E' quella serie di attività che ti permettono di avere un maggior controllo sui tuoi parametri vitali. Non dico nulla, voglio incuriosirti per indurti e andarlo a vedere. Quindi troverai il link nella mia bio, è totalmente gratuito e inizia a prendere le reglie, il controllo di te stesso. Ciao! Ciao!